Sicuramente è stato un gol importante, in un momento abbastanza importante, non per chiudere la partita, ma per stimolare tutta la squadra, quindi sono molto contento. Soddisfatto del gol? Soddisfatto di questa partita? Che partita è stata? No, anche secondo me. Siamo partiti un po' sfortunati, secondo me, con un gol subito. Vi piace complicarvi la vita? Si può dire così, forse no. Certo che non vogliamo prendere un gol così, però può succedere. Noi lo sappiamo che abbiamo sempre la forza di ripartire, di fare gol, quindi abbiamo mai paura che non vinciamo una partita, quindi non siamo contenti che la partita che abbiamo fatto. Concentrati, determinati, anche perché rimontare e superare, poi battere questa Fiorentina, insomma, non è da tutti i giorni, anche perché la Fiorentina ha dei valori importanti. No, certo, anche secondo me Fiorentina ha una bella forma, quindi è mai facile battere la Fiorentina, però noi lo sapevamo che oggi era una partita molto importante, anche per l'Europa lì, per la classifica, è molto corto, quindi questa vittoria conta un sacco, veramente. Anche perché le altre nel pomeriggio, nel frattempo, avevano vinto, quindi serviva un segnale importante e l'avete dato, c'è anche l'Atalanta. Certo che abbiamo anche noi visto le partite, i risultati, quindi lo sapevamo che quando noi non vinciamo questa partita diventa un po' di più difficile, un po' di più complicato, e per quello siamo contentissimi che abbiamo vinto questa partita importante.